In modo ionio in tonalità di Do, tra il Do e il Re, un tono tra il Re e il Mi, un tono tra il Mi e il Fa, un semitono tra il Fa e il Sol, un tono tra il Sol e il La, un tono tra il La e il Si, un tono tra il Si e il Do, un semitono, qui non c'è nessuna variazione.